Ciao, siamo alla terza B del liceo Danilo Dolci e oggi siamo qui per parlarvi di un pezzo di storia della nostra città. La parola bellezza può sicuramente riportarci al complesso arabo normanno di Mare Dolce, che si trovava all'interno del più ampio parco vecchio, un'ampia riserva di caccia estesa a sud dell'abitato, che costituì il primo dei grandi parchi dell'epoca. Originariamente all'interno del giardino si trovavano specie arboree come alberi da frutto e piante di ogni genere, realizzato sulla base dei caratteri estetici del giardino islamico. La realtà attuale è un po' diversa perché il parco ha un'estensione molto più limitata, da Via Conte Federico fino alle pendici di Monte Grifone, ma ha tuttora una grande importanza perché costituisce uno dei più grandi e meglio conservati frammenti della Conca d'Ora. Pertanto la Fondazione Benetton Studi e Ricerche decise nel 2015 di dedicare al complesso Mare Dolce e la Favara la 26esima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa, una campagna di studio e di cura che viene annualmente rivolta a un luogo particolarmente denso di valori, di natura, di memoria e di invenzione. Il complesso comprende vari elementi architettonici. La chiesa di San Ciro è difeso sicentesco ai piedi del Monte Grifone, che adesso, grazie ad alcuni volontari, è in fase di ristrutturazione. Gli archi di San Ciro, struttura composta da tre archi che servivano a far confluire le acque verso il lago di Mare Dolce, e infine la struttura principale, il castello di Mare Dolce, costruito nel 1071 come dimore dell'Emiro. È costituito da più corpi di fabbrica. Il suo corpo principale è quello situato a nord-ovest, l'unico che non era bagnato dalle acque del lago. In esso si aprono quattro archi che consentono l'accesso all'edificio. Il primo è in mettere lavoro a reggia, il secondo nella cappella, il terzo all'interno del grande cortile, mentre l'ultimo ingresso ad oggi è tamponato. Nell'arco dei secoli il castello subì varie modifiche e fu trasformato in fortezza. Nel 1328 fu ceduto ai frati cavalieri teutonici della Magione che lo trasformarono in ospedale e poi, verso la fine del XIX secolo, divenne proprietà di due importanti famiglie, Conti e Castellana, fino al secondo dopoguerra. Ne conseguì poi un progressivo degrado ed abbandono. E ciò ha creato le condizioni per l'insediamento di addirittura 72 famiglie e persino del famoso boss mafioso Tutuccio Contorno. Per poter riportare la leggibilità della struttura, l'impegno di Magione inizia a partire dagli espropri, che furono però saltuari a causa della discontinuità dei finanziamenti. La prima tranche fu tra gli anni del 1999-2000, la seconda tra il 2009-2011 e l'ultima tra il 2013-2014, per eliminare le strutture interne dell'edificio. Attualmente è stato stanziato un finanziamento per continuare il corso degli espropri per le strutture diacenti, così da costruirne una piazza frontale, per farsi che le venga attribuita maggiore visibilità. Ciò significa che si dovrà ancora attendere, ma allo stesso tempo si ha la sicurezza dell'inizio di un cambiamento. C'è un'importante rilevanza affinché il complesso sia più fluibile e valorizzato ai cittadini locali. Quello di Mare Dolce è un complesso che per troppo tempo è rimasto nell'ombra, nonostante la sua storia. Con il passare degli anni, però, da posto abbandonato qual è stato, almeno nell'ultimo secolo, uno spiraio di speranza si è acceso. È stato oggetto di un processo di valorizzazione che è stato e sarà ancora molto lungo. Il primo passo in avanti è stato fatto nel 1999, quando si è mobilitata l'associazione Castello e Parco di Mare Dolce, costituita da un gruppo di 80 persone, tra professioni universitari, professionisti e cittadini attivi, che si sono uniti con l'obiettivo di far rinascere e portare alla luce il posto. È stato intrapreso quindi un processo di riqualificazione che ha registrato un'accelerazione nel 2015, quando il complesso è stato insedito dal premio Scarpa, che ha sicuramente acceso i riflettori su questo luogo, contribuendo a favorirne la conoscenza. Ad oggi ci sono innumerevoli proposte per valorizzare il posto, tra queste quella di collegare le due parti del parco, ma anche qui le difficoltà non mancano. Ancora c'è molta salva da fare, basti pensare all'insufficiente segnaletica e alla difficoltà nel raggiungere il luogo con i mezzi pubblici. Aspetti questi che non consentono l'inclusionare il complesso tra i beni patrimonio culturale dell'UNESCO, lasciandolo attualmente in lista d'attesa. Dopo tutte queste informazioni speriamo di aver mosso in voi un po' di curiosità e ci auguriamo che abbiate voglio di andare a visitare direttamente il luogo, siamo sicuri che non ve ne pentirete. Grazie 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 Grazie